Intro Per eccoci qua io sono Nidoo e bentornati su Nidoo Channel Ed era da un sacco di tempo che volevo fare questa Top 5 Ma per evidenti problemi tecnici non era possibile Per chi non l'avesse ancora capito il motivo Perché i capitoli fino a qualche giorno fa erano 4 E nella Top 5 ce ne devono essere almeno 5 Perciò fate voi i conti Ma adesso è stato rilasciato anche il quinto capitolo E perciò non perdiamoci il chiacchere e diamo il via alla Top 5 Sui migliori capitoli di Five Nights at Freddy's Al quinto posto troviamo Five Nights at Freddy's 3 Nonostante sia uno dei capitoli più importanti della trama In quanto spiega un sacco di cose da sempre rimaste segrete Ho ritenuto un capitolo un po' diciamo scarso, un po' povero E non perché c'era solo un animatronic Anzi ho apprezzato moltissimo questa cosa In quanto dava l'idea di essere una vera e propria boss fight Con il cattivo principale della saga Avvero il part poor guy dentro Springtrap Ma perché era veramente troppo monotono Entusiasmante solo le prime notti e soprattutto troppo facile a mio giudizio Comunque Springtrap resta uno dei miei animatronics preferiti Quarto posto per la new entry Five Nights at Freddy's Sister Location O Five Nights at Freddy's 5 se preferite Lo ammetto è molto più entusiasmante del terzo capitolo E sicuramente ti tiene sulle spine perché non sai veramente come comportarti Inoltre gli animatronics sono veramente bellissimi L'unica pecca è che hanno modificato completamente il gameplay di base Il che in alcuni casi non è male Ma la maggior parte delle volte annoiano un poco O addirittura ridicolizza il gioco Medaglia di bronzo per il primo capitolo di Five Nights at Freddy's Sapete come si dice no? Il primo film è sempre più bello Ed è vero Questo capitolo racchiude appieno lo stile survival horror Che ti promettono in questo gioco Con dei personaggi che non puoi non amare O odiare Dipende dai casi È vero Può risultare difficile Magari noiosi in alcuni momenti Ma è sicuramente uno dei capitoli più spaventosi Sicuramente uno dei più riusciti E a proposito di capitoli spaventosi Medaglia d'argento per Five Nights at Freddy's 4 Uno dei più spaventosi e dei più misteriosi Non solo il gameplay ti costringe a spingerti oltre i tuoi limiti Ma anche la trama segreta è un qualcosa che ti fa dire Una volta finito il gioco Ah, ma quindi tutto è iniziato così? Veramente? C'è il purple guy era il padre del protagonista Esistono due morsi Uno di Foxy e l'altro di Fazbear Freddy, Foxy, Chica e Bonnie Gli aggrati purple guy per suo figlio E quindi tutte le teorie fatte finora erano sbagliate Abbiamo sempre sbagliato Oh mio Dio che figaggine Che vi posso dire? Questo capitolo è veramente bello Sia per gameplay che per trama Primo posto per Five Nights at Freddy's 2 È vero, Five Nights at Freddy's 4 era spaventoso Ma alcune volte era ingiocabile Troppo difficile Mentre Five Nights at Freddy's 2 Non solo ti scaglia addosso l'esercito di animatronics Non solo ti spiega cosa c'era prima di Foxy Chica, Bonnie e Freddy Ma ti fa alzare il livello dell'attenzione A dei limiti mai visti Devi tenere d'occhio il puppet Devi controllare i toy animatronics Devi controllare i vecchi animatronics Devi controllare Mangold, Golden Freddy Insomma, tutti quanti Non puoi distrarti un attimo Ed è questo che un capitolo di Five Nights at Freddy's deve fare Mandarti in paranoia Perché non sai cosa potrebbe succedere Potrebbe spuntarti un animatronics Invece te le spunto un altro Poi, piccola nota Adoro i giochi con tanti personaggi Mi piace poter scegliere per chi ti fare E voi cosa ne pensate? Qual è stato il vostro capitolo di Five Nights at Freddy's Che vi ha spaventato di più? E qual è quello che invece mi ha fatto dire No, non è divertente Scrivetelo qua sotto nei commenti Lasciate un like Commentate Condividete Iscrivetevi se non siete ancora iscritti E detto questo Con un buff Vi saluto